Alessandra Maggiani presenta le firme, dimostra che la componente Cuperlo del PD è in grado di sostenere una candidatura interna a sindaco di Frosinone e poi fa un passo indietro per il bene del partito. La strada ora è tutta per Fabrizio Cristofari, il primario ospedaliero dello Spaziani di Frosinone. Lunedì al massimo riceverà l'investitura ufficiale come candidato del PD alle comunali contro il sindaco uscente Nicola Ottaviani. La cronaca della giornata inizia a mezzogiorno, è quello l'orario limite entro il quale bisogna presentare le candidature per le primarie del PD e ieri il dottor Cristofari aveva già depositato le sue. A mezzogiorno in punto Alessandra Maggiani consegna la documentazione per la componente sinistra DEM. Una volta omologate e solo a quel punto accetta di prendere in considerazione l'appello lanciato ieri dal presidente cittadino del PD Francesco Brighindi e decide di fare un passo indietro e rinunciare perché non ha mollato prima, perché avrebbe esposto la componente al rischio che qualcuno le potesse dire di non avere la forza per raccogliere le firme e perché in questo modo ha dato dimostrazione di maturità politica ponendo il bene del partito davanti all'egoismo della candidatura individuale. Prendo atto, ha detto Alessandra Maggiani, della necessità di costruire una candidatura forte e unitaria sostenuta da tutto il partito. Pertanto ritengo opportuno compiere un passo indietro nella partecipazione alle primarie affinché si apra un momento di riflessione da parte di tutti. Cosa accade adesso? Resta in campo la sola candidatura di Fabrizio Cristofari, il che rende inutili le elezioni primarie. Il direttivo del PD si riunirà lunedì e prenderà atto della situazione. In presenza di un solo candidato il partito farà propria la disponibilità alla candidatura di Fabrizio Cristofari e lo investirà ufficialmente.